Mambo Italiano Mambo Italiano Benissimo, a gioco facile a dire che prima di lei il disastro, perché lo vediamo sotto i nostri occhi, però forse per uno che si propone di governare una regione così complicata, così difficile come la Sicilia, non avere nessuna esperienza da amministratore è un tema o no? Guardi, io per cinque anni ho acquisito tantissime esperienze all'interno del Parlamento regionale e come membro della Commissione Bilancio conosco tutti i mali di quel bilancio regionale, ma conosco anche le soluzioni da poter mettere in campo. Noi ci metteremo al lavoro immediatamente per risolvere i problemi economici della nostra terra, senza continuare a fare quelli che chiedono l'elemosina a Roma, ma rimboccandoci le maniche e cominciando a lavorare davvero. Noi dobbiamo restituire alla nostra regione una dignità che deve essere quella del lavoro, dello sviluppo delle imprese, di strade, autostrade, ferrovie, di infrastrutture, ma soprattutto dobbiamo cominciare a guardare ad una sanità che funzioni, che rispetti i diritti dei cittadini. Incontro troppe persone anziane in questi giorni che mi dicono che stanno rinunciando a curarsi perché non hanno i soldi per potersi rivolgere alle strutture private. Senta Cancelleri, le voglio fare una domanda sui numeri della Sicilia, quelli che lei mi ha detto di conoscere, perché lei ha detto in campagna elettorale che la prima cosa che farete sarà ridurre gli stipendi dei deputati regionali e abolire i vitalizi. Mi sembra un'ottima idea, sono anni che lo chiediamo a gran voce noi dei media, però poi le faccio vedere qualche numero. I numeri della Sicilia, debito complessivo 8 miliardi di euro, debito pro capita 1500 euro a persone, neonati compresi, disoccupazione 22%, disoccupazione giovanile 57%. Bastano un po' di taglia alla casta per mettere mano a questo disastro in termini di percentuali di numeri? Non bastano infatti perché quelli sono soltanto il biglietto da visita per presentarsi ai cittadini facendo capire loro che l'aria è finalmente cambiata e cominciamo davvero ad invertire la rotta. Ma per aggredire quel debito pubblico di 8 miliardi di euro innanzitutto bisogna portare i libri contabili alla Corte dei Conti per avviare una due diligence, c'è un'osservazione attenta di quelle che sono le entrate e le uscite per verificare se qualcuno in passato ha mentito al popolo siciliano. Se dovessimo scoprire questo, la porta della Procura della Repubblica è immediatamente accanto, io andrò a denunciare quelli che sono stati i responsabili. Dall'altra parte dobbiamo ripartire invece con gli investimenti. Noi vogliamo realizzare, accorpando delle partecipate, cosa che per esempio non è stata fatta mai in Sicilia, quelle che si occupano di accesso al credito, istituendo un istituto regionale di investimenti pubblico. Le dovrà investire nei 5 anni un miliardo di euro per le imprese facendo sviluppare finalmente le nostre posti di lavoro. Mi risponda su un'altra cosa, Cancelleri, quello che secondo me è un numero che ci dice molto del clientelismo che c'è stato in Sicilia negli ultimi decenni. In Sicilia con 5 milioni di abitanti ci sono 17 mila dipendenti regionali, dipendenti pubblici. In Lombardia con 10 milioni di abitanti, il doppio della Sicilia, sono 3 mila. C'è qualcosa che non quadra. Li ridurrete questi impiegati? Come fate a portare sulle spalle una zavorra così? Come lei ben sa, un impiegato pubblico non può essere licenziato, ma in ogni caso io non voglio licenziare nessuno. Io vorrei che questi impiegati li cominciassimo a utilizzare meglio, prima di dire che sono troppi. Io credo che la macchina amministrativa della nostra regione, in quanto regione ha statuto speciale, e io lo ricordo, in Lombardia sono meno, semplicemente perché beni culturali, turismo, attività produttive, sono sotto i ministeri, da noi sono sotto gli assessorati regionali, ci occupiamo direttamente, ma a queste persone io rivolgo ogni giorno il mio pensiero. Quindi lei mi ripete, come mi disse l'altra volta, che non sono troppi, l'unico problema è farli lavorare, ma non sono troppi, secondo lei? Assolutamente no. Facciamoli utilizzare meglio. Io dico, questa domanda, se dovessi vincere, mi piacerebbe che lei me la rifarebbe fra 5 anni, per vedere se realmente qualcosa è cambiato. Utilizzare meglio il personale significherà dare nuove opportunità alla nostra terra, ai nostri giovani che finalmente non andranno via e troveranno un posto di lavoro qui, per poter crescere accanto ai loro genitori e ai loro nonni. Cancellari, so che lei è un po' arrabbiato perché sostiene che si parla più di un tweet che degli arresti mafiosi, però questo tweet ci ha fatto riflettere, ci ha fatto riflettere perché dava una sensazione di un atteggiamento, un linguaggio, un modo di vedere la politica. Mi riferisco, come lei ben capisce, al tweet di Angelo Parisi, sul Rosato, che finisce con un... Condanno quelle parole, condanno assolutamente quelle parole, Angelo ha già cancellato quel tweet e fra l'altro si è anche scusato. Si è anche scusato, l'abbiamo detto, però mi dica una cosa, questa persona comunque sarà assessore della sua giunta? qualora lei vincesse? Ma io gli ho... è un ingegnere ambientale, una persona assolutamente apprezzata negli ambienti siciliani, si dovrà occupare di risolvere problemi della nostra terra, energia, rifiuti, acqua... Quindi lo conferma? Assolutamente lo conferma. Ti mette un odiatore in giunta, cancelleri? Sì, guardi, le faccio una battuta, gli tolgo le password di Twitter ma gli do i pieni poteri per quanto riguarda la soluzione dei problemi della nostra terra. Ho capito, però è normale che c'è un assessore incontrollabile e toglie le password, scusi. Non è una cosa normale. No, non ho capito, mi perdono. Dico, non è normale avere un assessore incontrollabile a cui togliamo le password per evitare che faccia danni, non è come una roba normale. Dottoressa Berlino, era una battuta la mia, è chiaro che queste cose non dovranno più accadere, però dico, io aspetto ancora le scuse di Luca. Lo sai perché mi ha preoccupato quel tweet? A tutto il Movimento 5 Stelle quando ha detto che... Posso dire la verità, cancelleri? La cosa che non mi piace è noi ti bruciamo vivo. Cioè l'idea che ci sia una parte politica che pensi che esistano metodi così. Perché questo, non so se lei sa che noi abbiamo aperto una campagna ai primi di settembre sull'odio in rete che si chiama Odio l'odio, perché abbiamo la sensazione di quello che viene detto sulla rete e poi in qualche modo trasmigra nei comportamenti, nel linguaggio pubblico, tutte cose che fanno male al Paese. Io sono assolutamente d'accordo con lei, infatti dico, condanno quelle parole. Mi piacerebbe che ad esempio su in televisioni, come in trasmissioni come la sua, che sono molte attenti all'odio in rete, ad esempio si parlasse di quando Musumeci mi ha dato dell'imbecille, del celtrone, del vampiro, perché mi nutro di sanguomana, di quando Micicare ha detto che il Movimento 5 Stelle è una piaga come l'AIDS. Ha detto di lei? Odio verbale, sì, l'ha detto, e davvero mi suona strano come che non ve ne siete accorti, però purtroppo ha detto di me queste cose qui, io però sai come gli ho risposto a Musumeci? Con un sorriso, con questo sorriso qui. Allora, benissimo, tra l'altro ricordiamo sempre che gli errori degli altri non autorizzano i nostri errori, così miglioriamo tutti. Grazie Giancarlo Cancelleri, ci rivediamo dopo le elezioni. In bocca al lupo! Viva la Sicilia!